Ben tornati ad Era Firenze, la rubrica di Quasi Radio che si occupa della storia della città. Nelle puntate precedenti abbiamo trattato della Firenze del 200 e del 300, abbiamo parlato delle arti, del sistema politico e amministrativo della città, abbiamo visto l'ampliamento fisico con la costruzione delle nuove mura, la creazione di nuove chiese importantissime come ad esempio Santa Croce, Santa Maria Novella, Santa Maria del Fiore. Abbiamo parlato poi di Giotto, di questo grande pittore del padre della pittura italiana. E risulta difficile, veramente difficile uscire da questo periodo senza dedicare perlomeno una delle nostre puntate al più grande poeta italiano che ha avuto i Natali proprio qui a Firenze, ovvero di Dante. E quindi ne parliamo con un ospite veramente ironico, oltre che preparato, che è Mauro Santoni. Ciao Mauro Santoni, ciao Mauro Santoni, insegna italiano attualmente all'estero e in Albania, ma stabilmente alla Pieraccini qui di Firenze, e oltre che essere per me un compagno di mille avventure, non solo culturali ma anche di politiche di vario genere. E quindi siamo nel 1265 e a Firenze nasce Dante. Nasce in quella che oggi è via Dante Alighieri, vicino alla Torre della Castagna, in pieno centro storico. E ne esiste oggi dei luoghi dove lui è nato una ricostruzione, che è il Museo Casa di Dante, che vuole essere un museo della memoria sostanzialmente, è un museo didattico. E ben ricordiamo che però non è il luogo originale dove nacque Dante, ma probabilmente dove si vede al numero 2 di via Dante Alighieri, e quindi erano proprio lì le sue case, perché lo sappiamo per un contenzioso che c'è stato, e che è stato un documento che è stato ritrovato, di un contenzioso con la chiesa di San Martino, che è lì accanto, per cui si sa che quello è il luogo dove nacque Dante. Però insomma, ora affrontare il più grande poeta in 20 minuti non è banale. E incomincerò subito con una domanda. Mauro, allora, qual è il tuo approccio con Dante e come è stato il tuo incontro? Allora, sì, innanzitutto una rapida premessa. Io sono un insegnante di lettere delle medie e quindi non un docente universitario, tantomeno un dantista, e quindi affronterò Dante in maniera leggera e magari anche un po' pop, perché insomma un mostro sacro così va in qualche modo anche, insomma ci si può giocare, tanto è grande. Io ho incontrato Dante tre volte nella mia vita, la prima da studente, come tutti noi, poi da studente universitario e specializzando per appunto diventare insegnante, e soprattutto ora lo insegno, lo incontro spesso come docente di lettere alle medie. Allora, questo secondo me è invece l'incontro più rivelatorio, perché quando si insegna alle medie e si deve trasmettere o lavorare su dei temi con dei ragazzi di 12-13 anni, è un'ottima cartina di Tornasole per vedere cosa funziona bene e cosa no, e cosa ancora riesce a catturare le nuove generazioni, perché insomma l'attenzione è davvero breve. Quindi io l'ho migliorato tante volte. Per esempio, io adoro il cinema e quindi ho cercato loro, e ho scoperto per esempio con mia grande sorpresa che un film mito della mia adolescenza, come Non ci resta che piangere, non funziona più, è un po' invecchiato, è una classe di oggi, fa fatica a seguirlo, mentre funziona ancora alla perfezione, un meccanismo a orologeria, un film immortale come l'armata Brancaleone, che ancora cattura i ragazzi in ogni modo. Lo userò per i miei figli, che ti confesso, settimana scorsa gli ho proposto, non ci resta che piangere, e sono rimasti un po' incerti, ero sicura di andare sul centro. Invece no, perché ogni tanto c'è delle cadute di ritmo, e ciò che per noi era un mito, invece l'armata Brancaleone, la palla non casca mai, e funziona altrettanto bene il sommo Dante Alighieri, che in realtà conquista e affascina i ragazzi di 12 anni di oggi come poco altro, forse Ariosto lo eguaglia in questo. E con cosa ha costruito, diciamo, questo fascino? Perché perdura? Con quali mezzi, secondo te? Allora, innanzitutto, Dante funziona ed è eterno, intanto perché è di fatto stato un rivoluzionario. Qui abbiamo un'immagine, insomma, che si riferisce già all'epoca giovanile, quindi a Dolce e Stinnovo, sin con le sue prime prove, Dante, come tutti i grandi artisti, d'altronde, ha rotto e scardinato le regole del suo tempo, e quindi della letteratura, in realtà Dante non solo, insomma, quindi è a pari di un Picasso o di un Leopardi. Quindi già il Dolce e Stinnovo fu innovativo, non solo dal punto di vista linguistico, il nome, fra l'altro, è sempre di Dante stesso, che ha, nella Divina Comedia, che così lo definisce, ma ha scardinato un po' anche le regole generali, per cui era nobile non chi discendeva da famiglie nobile, ma chi aveva un cuore nobile, e questo, fra l'altro, insomma, si sposava parecchio anche con quella che era la rivoluzione, fra virgolette, della Firenze dell'epoca. Ma Dante funziona poi, ancor più, ovviamente, per la Commedia, o Divina, come la definì il fan spiegatato boccaccio, dove dentro funziona perché troviamo tutto, per cui troviamo il divino, il terreno, la storia, la geografia, la politica, la religione, il meraviglioso, il mostruoso, il viaggio, l'amicizia, l'amore, veramente tutto quello che ci può essere, e che è un'architettura incredibile. Allora, al di là del personaggio di Dante, Dante è, non a caso, un ettrino, perché nella Commedia è al tempo stesso scrittore, narratore e protagonista, e gioca molto su questo triplice ruolo. In più è un poeta dichiarato, e quindi spesso riflette sul proprio modo di fare poesia e sull'arte poetica, quando incontra i vari guinizelli, cavalcanti e via dicendo, appunto. E quindi addirittura, insomma, c'è quasi una meta poetica di anticipo, ma funziona, anche la struttura è clamorosa, per cui sappiamo che Dante ha costruito tutta la Commedia su tre, il numero magico e il numero sacro che ricorda la Trinità, per cui abbiamo le terzine, abbiamo tre cantiche, le tre cantiche, ognuno di 33 canti, la somma di tutte fa 99, più il canto introduttivo fa 100, che a sua volta è un numero perfetto, quindi è qualcosa di sbalorditivo che anche gli studenti di oggi non possono in qualche modo non ammirare. E poi tutto, dai vari personaggi, i passi famosissimi, penso che ognuno di noi abbia un hit parade dei versi danteschi più famosi, quindi dall'Inci, siamo proprio a uno dei capolavori della letteratura mondiale. Non solo, Dante ha colpito così tanto l'immaginario, anche con tutto il mondo che ha costruito e dipinto, che è come il prezzemolo, lo troviamo dappertutto, per cui possiamo vedere un film hollywoodiano come Seven di David Fincher e appunto il killer che uccide secondo i sette peccati capitali e ovviamente si stira in parte anche alla Divina Commedia Dantesca. Ma la Divina Commedia Dantesca ha influenzato anche uno dei più grandi artisti visivi del secolo scorso ed è il disegnatore di anime e manga giapponese Go Nagai, quindi quelli della nostra generazione, lo conosciamo bene perché siamo cresciuti con i vari Mazinga Z e devo dire uno dei volumi che io più adoro è Tutta la Divina Commedia illustrata da Go Nagai che è un capolavoro visivo incredibile, quindi insomma con Dante non ci si annoia mai e davvero è ovunque, tanta è la forza del mondo che è riuscito a creare e l'universalità, insomma, è un po' come Don Quixote o l'Emilia Una Notte uno è il capolavoro della letteratura mondiale. Eh no, certo. Senti, ma parlando diciamo un po' dal punto di vista campanilistico, secondo te che cosa perdura ancora dello spirito dantesco nella fiorentinità di oggi? Allora, perdura una cosa che è un aspetto che è forse collegato però alla cosa più incredibile di Dante, cioè che Dante abbia di fatto costruito questa cattedrale strepitosa senza avere mezzi o strumenti per farlo, nel senso che è un po' come gli egiziani che hanno costruito le piramidi senza conoscere l'uso della ruota. Quando Dante scrive, di fatto, e compone la commedia, l'italiano scritto era ancora una lingua non molto sviluppata, molto più indietro delle lingue nazionali coeve come il provenzale, lo spagnolo e il francese e appunto ancora non sviluppatissima. Quindi Dante non ha, in realtà, gli strumenti materiali non avrebbe per scrivere un capolavoro del genere, quindi di fatto quello che manca lo crea lui completamente ex novo e definisce modella e struttura una lingua in maniera incredibile. Fino a Dante, ma anche dopo Petrarca, ricordiamo che quasi tutti i grandi scrittori italiani scrivevano, sì, ancora in volgare, ma soprattutto in latino. e Dante invece costruisce, dota la lingua italiana scritta di strumenti sia proprio dal punto di vista grammaticale, sintattico, ma anche lessicali incredibili, quindi l'italiano diventa una delle lingue di fatto più sviluppate e la cosa incredibile è che lo fa a tutti i livelli, cioè lui non forgia solo un italiano medio, ma forgia tutti i registri, si va dall'italiano più aulico, più elevato e più raffinato a quello invece più popolare e anche scurrile. Allora, quando si insegna le medie si arriva al canto ventunesimo e c'è appunto il diavolo Barbariccia con il cereberrimo ed egli avea del cul fatto trombetta, il fatto che in Dante da latinismi a parole del dialetto si possano trovare poi anche le parolacce è qualcosa che ovviamente manda in visibilio gli studenti, ma questo proprio perché in Dante c'è tutto, eccolo appunto il riferimento a Barbariccia. Allora, questa commissione contaminazione fra genere alto e genere basso, sacro e profano, in realtà e questa è una delle cose che più mi piace da professore d'italiano, è qualcosa che è legato alle origini della nostra lingua scritta proprio dai primissimi passi. Allora, tutti ci ricordiamo che la prima traccia di vogare scritto è il celeberrimo indovinello veronese, quindi di fatto un, probabilmente, un gioco e uno scherzo fatto da un frate amanuense e scritto al lato appunto di un codice mentre si ricopiava e quindi già c'è l'immagine del frate e del cercare una qualche distrazione. Ma anche una delle prime tracce non a caso la trovo ancora più rappresentativa dell'italiano scritto in forma d'arte la troviamo a Roma in San Clemente al Laterano dove se andiamo nella parte sotto della basilica ci sono gli affreschi veramente altomedievali che ci raccontano della storia di San Clemente e a un certo punto doveva essere costretto a portare doveva essere trascinato ma poi insomma si cambia c'è un miracolo con una colonna e c'è il cattivo quindi il santo parla in latino nelle vignette della fresco mentre invece i cattivi romani parlano non a caso in volgare italiano e una delle prime tracce di italiano scritto affrescato oltretutto in una chiesa è quello che dice il laguzzino romano che invita a spingere ed è fili delle pute traite quindi di nuovo troviamo subito sin dalle sue primissime apparizioni la parolaccia nel volgare in questo caso letterale anche metaforico e nella chiesa quindi queste cose assolutamente mescolate però Dante ne fa un'arte a livello grandissimo a scuola la tensione con Forese Donati non la facciamo mai perché ovviamente i due se ne dicono di tutte tra l'altro insomma Dante fa anche sugli illazioni sul fatto che la moglie di Forese sia sempre malata perché dice sempre scoperta in un punto perché il marito non la copre abbastanza insomma quindi ci va pesante insomma il carattere di Dante che era appunto iperpolemico e sarcastico è noto anche per esempio la volta che passeggiando per le strade di Firenze sente un fabbro che recitava i suoi versi sbagliandoli tutti e storpiandoli allora lui entra come una furia nella sua bottega gli prende il martello tutti gli strumenti e li butta per terra il fabbro dice oh ma cosa fai sei impazzito e lui gli risponde imperturbabile tu guasti i miei strumenti e allora io guasto i tuoi insomma quindi il carattere del personaggio anche era questo senti parliamo un po' di gossip che vedo il vero sasso di Dante ah sì anche questo che questa è mitica questo è sempre anche per ricordare invece l'aneddoto famoso esatto sulla folia per cui appunto si narra che su il vero sasso di Dante sedesse Dante a osservare i lavori di costruzione della cattedrale e che sia passato un uomo e che abbia chiesto a Dante qual è il cibo più buono e la risposta imperturbabile di Dante è stato l'uovo sodo poi il signore se n'è andato e un anno esattamente dopo la stessa scena Dante sempre seduto là ripassa ripassa lo stesso signore non si erano più visti nell'anno e gli domanda con un certo delirio surreale ma con cosa e Dante imperturbabile risponde coi sale perché la memoria è la sua leggenda in realtà questo è il sasso che tutti hanno portato dalle cave di Maiano noi un gruppo di ragazzi da Maiano l'hanno portato giù per creare il vero sasso di Dante e la lapide invece in piazza Duomo allora ecco mi chiedevi prima quali sono i collegamenti di Dante con anche con Firenze e la tradizione fiorentina beh questa è una dell'eredità forse più significative di Dante per la cultura fiorentina cioè questa contaminazione fra alto e basso per cui quello di avere una grandissima cultura e però non a disegnare affatto il sarcasmo l'ironia popolare appunto quando addirittura scurili questo fa parte un po' del DNA della nostra città e Dante l'ho amplificato e ne è stato poi un denurgo allora fra gli eredi di Dante qui abbiamo ovviamente il nostro magnifico Lorenzo dei Medici e anche lui sappiamo faceva da composizioni di amore elevato oppure anche filosofiche molto elevate fino alla Nencia da Barberino che chiaramente era di tutt'altro livello con la parodia appunto dell'amore fra il pastore insomma il contadino e la sua amata anche linguistica e fra l'altro questo doppio aspetto si rispecchia molto anche nella corte e degli amici di dello stesso Lorenzo per cui alla corte Medicea sappiamo che potevamo trovare eccolo lì l'austero Marsilio Ficino e quindi in cui si ragionava di filosofia ai più alti livelli e poi invece il geniale Luigi Pulci e Morgante è uno dei piccoli grandi tesori della nostra letteratura e fra l'altro Pulci aveva ispirato direttamente sembra il Magnifico con la Nencia lui avendo fatto la beca di Comano quindi insomma è una tradizione che continua ma non solo questa è una tradizione che di fatto arriva praticamente fino ai nostri giorni e ai redi che l'hanno continuata fino all'oggi insomma Paolo Poli è chiaramente un geniale rappresentante di questa commissione di alto e basso di sublime e volgare in maniera appunto esplosiva e geniale ma se ci pensiamo anche di nuovo per i nostri grandi miti un film come quelli della serie appunto di Amici Miei rispecchia di nuovo alla perfezione tutto questa tradizione appunto che parte da Dante per cui abbiamo gli scherzi più terribili e più volgari ma gli ideatori poi invece in realtà sono persone coltissime come il primario Sassaroli o l'architetto Melandri e quindi anche questo è proprio tipico dello spirito della nostra città che Dante è stato il primo e in realtà poi in arrivato a cristallizzarlo e a modellarlo sì al massimo livello ti ringrazio tanto Mauro per questo Dante Pop che mi è piaciuto tantissimo e che mi ha divertito tanto e ci vediamo spero presto anche qui e non solo fuori ciao ok grazie a voi ciao 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 ciao